E poi la schermata. Schermata che ci è utile. È ora, mi sono accorto di ritardo che non avevamo visto questa cosa. Vediamola un po'. Dunque, argomento numero uno di oggi è la legge del contrappasso. La legge del contrappasso è, a parte questo strano termine, poi non è una legge da diritto, da diritto privato, da diritto pubblico. È un criterio praticamente che utilizza Dante per attribuire le pene ai dannati dell'inferno. In pratica come funziona? Intanto che significa contrapasso? Che è un termine che non usiamo noi, insomma. Ecco, qui a sinistra c'è una slide che ci dice che il contrappasso vuol dire viene da contra, cioè il contrario, e patire, pati, sopportare. Quindi sopportare il contrario, soffrire il contrario. Che vuol dire? La legge del contrappasso praticamente dice, guida Dante, è lui che si rinventa. Non c'era una legge approvata da qualche parlamento, da qualche governo. È un criterio, una logica, chiamiamola così, per cui le pene sono attribuite secondo però un concetto, una razionalità. Praticamente, mettiamola così e spostiamo lo sguardo intanto nella slide col fondo rosso. In pratica il concetto generale è che la pena a cui sono sottoposti i dannati all'inferno ha a che fare in qualche modo con il peccato che loro hanno compiuto in vita. Ma noi già l'abbiamo vista una, appunto, è ora di parlarne, no? Negli ignavi praticamente, vi ricordate, abbiamo già visto che poiché in pratica il loro peccato era consistito nel non prendere posizione, nello scegliere né il bene né il male, come avete detto anche in un vostro esercizio, cioè in pratica nel non muoversi dal punto di vista morale. Ecco, dal punto di vista della pena a cui sono sottoposti, invece, la pena è il contrario di quello che hanno combinato in vita, cioè gli ignavi fermi, una vita statica dal punto di vista delle scelte che avrebbero potuto fare, si tramuta come pena, no? In correre continuamente per l'eternità, punzecchiati da animali, no? Vi ricordate? E correre praticamente dietro è un insegna priva di qualsiasi senso, quella bandiera che si muove vorticosamente percorrendo il cerchio, no? In cui loro sono rinchiusi per l'eternità. Quindi ecco, in questo caso, ad esempio, la pena è, attenzione, ecco i due criteri del contrapasso. Quindi ripetiamo un attimo la questione. Leggere il contrapasso è quella che stabilisce che la pena in qualche modo assomiglia al peccato commesso in vita. Poi vedete però la biforcazione. In effetti la pena degli ignavi è il contrario del peccato che hanno fatto. Quindi è un contrapasso, come si dice, per contrasto. Ok? Quindi il contrario del peccato che hanno commesso. C'è anche un contrapasso, lo vedremo abbastanza presto, perché noi il prossimo carto che leggeremo sarà appunto il quinto, il carto dei lussuriosi. Insomma, Paolo e Francesca, tanto per capirci, ne avete sentito forse già parlare. La lussuria è il desiderio sessuale sfrenato, eccessivo. Cioè, un concetto dell'amore che è esageratamente passionale, no? A quei tempi nel Medioevo questo distraeva dalla retta via della fede cristiana. Ecco, lì invece la pena a cui sono sottoposti questi lussuriosi ricorda molto da vicino il loro peccato. Quindi è un contrapasso per l'analogia. Ovvero, è come in vita si sono lasciati travolgere praticamente dalla passione erotica, dalla passione amorosa, diciamo così, così all'inferno verranno sbatacchiati continuamente, sono travolti per l'eternità da un vento infernale, da una bufera, da un vento tempestoso che gli fa sbattere di qua e di là. Vedete, quindi in questo caso siamo di fronte appunto, come dicevo prima, al contrapasso per analogia. Quindi vedrete che questa legge poi sarà, come dire, puntualmente applicata da Dante sempre all'inferno. Ma in realtà anche nel purgatorio e addirittura anche nelle beatitudini del paradiso. Cioè esiste anche un contrapasso, no? Che cosa hai fatto di bello nella vita? Starai sempre qui in paradiso, in questo caso godendo di una condizione che ricorda il tuo comportamento in vita. Quindi c'è questa legge, all'inferno insomma si tratta sempre di pene, chiaramente, cioè di sofferenze inflitte a chi si è comportato in maniera scorretta dal punto di vista dei valori cristiani. Quindi questa era, forse l'avrei dovuto dire prima, ma insomma tanto sugli ignavi avevamo già discusso, no? Sulla pena e sulla strana cosa che devono fare all'inferno. Quindi ecco, da adesso in poi, diciamo, la legge del contrapasso, lo conosciamo, insomma, il valore di questa cosa. Un'altra cosa che volevo farvi vedere, non ci abbiamo ragionato troppo, in effetti, è questa faccenda dei numeri che sono presenti nella commedia. Questo pure è un atteggiamento di Dante tipicamente medievale. Noi abbiamo visto qualche puntata fa, no? Che esistevano i bestiari, che esistevano i lapidari, gli erbari, cioè tutto quello che erano elementi della natura per interpretarli simbolicamente. Guardate, nel Medioevo c'era questa stessa attitudine, questo stesso approccio, anche per quanto riguarda i numeri. I numeri erano simbolici di qualche cosa. Ok, quindi questa è un po' una presentazione di questa pagina che sta sul vostro libro, e quindi l'ho soltanto, l'ho scaricata giusto per farci lezione adesso in diretta. Quindi a pagina 293 c'è la struttura simmetrica del poema, troverete, solo questo paragrafetto qui. Invece per quanto riguarda la pena del contrapasso avremo un altro slide tra poco e poi quelle due le pubblico poi dentro Moodle, così ce l'avete sempre a disposizione. Allora, qual è il concetto? Perché Dante si inventa proprio nella struttura stessa di com'è fatta la commedia, proprio nel modo di costruirla, una simmetria, un ordine. Il concetto è tipicamente medievale, cioè in effetti la realtà, anche la realtà dei mondi dell'aldilà, è molteplice, cioè a mille sfaccettature. Rischiamo di cadere nel caos, ragionava l'uomo del Medioevo, e quindi dice io devo trovare un ordine che regola l'universo, regola il cosmo. Cioè ci deve essere un criterio regolatore del cosmo che ovviamente discende da Dio. Quindi il cosmo sarebbe caotico e anche il mio poema dice tante sarebbe caotico. Cioè ci sono tanti personaggi, tante situazioni, come faccio a metterci una bella gabbia che lo renda appunto ordinato, razionalmente ordinato? C'è quindi questa fede tipicamente cristiana, almeno nel Medioevo si chiedeva questa cosa qui, in un ordine universale che vale in tutto l'universo, che mette ordine appunto, scusate la ripetizione, nel casino, scusate la brutta parola, nel caos che potrebbe essere quello del reale. Quindi c'è bisogno di un ordine. Qual è l'ordine? Qui in pratica Dante si inventa questa simbologia dei numeri, attenzione si inventa, utilizza perché in realtà la simbologia dei numeri è tipicamente medievale, quindi fa parte della cultura che Dante ha respirato fin da giovanissimo. In che consiste praticamente? Ma sostanzialmente i numeri che si ripetono molto spesso nella struttura della commedia sono due, il numero tre e il numero dieci. Ma il numero tre, non lo so, per una cultura profondamente cristiana come quella del Medioevo, che cosa rappresenta? Beh, ovvio, no? La Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo. Quindi il tre è il numero praticamente assolutamente inconfondibile, no? Ricorda proprio i tre elementi che fanno Dio, praticamente. Dio è uno e tre. Nella stessa entità che è l'entità divina ci sono tutte e tre queste componenti. E poi l'altro numero, guardate che avrà a che fare poi con il numero tre, anche questo, è il numero dieci. In pratica il numero dieci, guardate che giochetto, no? Il numero dieci è composto da tre volte tre, tre, sei e nove, perfetto, più uno. Tre, tre, tre è sempre la Trinità che viene ripetuta tre volte in quel numero, il numero dieci. E uno è chiaramente Dio. Quindi il numero dieci è anche questo profondamente simbolico. Ci siamo, quindi nel numero dieci è racchiuso per tre volte il concetto che si porta dentro del numero tre, cioè la Trinità più il principio ordinatore che è l'uno. Quindi il tre e il dieci, adesso mettiamo un attimo alla prova questa nostra anticipazione, e li troviamo sempre nella commedia, proprio nel come è fatta. Esempio? Beh, l'esempio più straordinario è che la commedia è fatta da tre cantiche, Inferno, Purgatorio e Paradiso. Poi è ovvio che corrispondono poi ai mondi dell'aldilà, però il tre, insomma, si ripete anche da questo punto di vista. Poi ogni cantica è composta da 33 canti. E vedete? Tre e tre. 33 canti più un canto, che è quello che abbiamo visto nell'Inferno, il primo canto, che funge un po' da introduzione a tutto il poema. Quindi vedete, 33 più uno in quel caso, no? Sempre l'uno simbolo di Dio. Il totale è 100 canti. Quindi tutta la commedia è fatta da 100 canti, e 100 è un multiplo di 10. Cioè 10 volte 10, vedete, 100. Quindi c'è questo divertimento, no, 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 non era un divertimento, era un uso dei simboli molto precisi, a questo punto simboli numerici da parte di Dante, no? Quindi il 10 moltiplicato per stesso è il numero complessivo dei canti. E ok. Quindi questo per quanto riguarda proprio come è fatto il poema, no? Se noi lo sfogliamo, vediamo questa rigida compartimentazione della materia del poema. Poi dal punto di vista, ci interessiamo soprattutto dell'inferno, anche se qui poi parlerà anche del Purgatorio del Paradiso, però l'inferno com'è fatto? In effetti ci abbiamo già una mezza idea, no? Abbiamo visto delle mappe dell'inferno, quell'immuto rovesciato. In realtà l'inferno è suddiviso in nove cerchi, vedete, 3 per 3, siamo sempre lì, più un vestibolo detto anche anti-inferno, è quello degli ignavi, quindi vedete, di nuovo 10, no? 9 cerchi più un'anticamera, diciamo così, e siamo a 10. 3, 3, 3, più 1, sempre la stessa ricorrenza, no? Degli stessi numeri. Poi i dannati, lo vedremo poi meglio, dopo un piccolo riposino, nella slide che vi propongo poi in finale, come sono inscatolati in questo imbuto i dannati? Perché i dannati veri e propri per ora non li abbiamo visti, no? Abbiamo visto soltanto gli ignavi, che però stanno addirittura al di qua della Chieronte, quindi non stanno nell'inferno vero e proprio, per le ragioni che abbiamo viste. Ebbene, i dannati sono così, immagazzinati, scusate il brutto termine, in tre, di nuovo, grandi posti, in tre grandi sezioni di questo imbuto. In pratica, secondo una logica per cui, in ognuna di queste tre fasce, in queste tre zone dell'inferno, sempre più profonde, sono puniti i peccati di incontinenza, incontinenza vuol dire non aver saputo resistere a certe tentazioni, violenza, vedete che di violenti ce ne sono di diversi tipi, e poi frode, cioè inganno. Quindi queste tre grandi sezioni puniscono peccati che hanno a che fare con l'incontinenza, il senso generale, violenza, il senso generale e inganno. E anche il purgatorio, ragazzi, c'è una struttura numerica assolutamente schiacciante. Per esempio, il purgatorio, che è una montagna fatta a gradini, praticamente, ha sette cornici, cioè sette di questi gradini, più un antipurgatorio e il paradiso terrestre. Quindi nove, di nuovo, sette più uno più uno, nove, sempre il tre moltiplicato per se stesso. Vedete che non si sfugge nemmeno il purgatorio. Il paradiso, non lo leggeremo, però insomma anche il purgatorio non lo leggeremo, però sappiamo che, dobbiamo sapere com'è fatto, il paradiso è distinto, qui siamo ormai fuori della sfera terrestre, chiaramente, mentre il ferno e il purgatorio, come abbiamo detto tante volte, sono ospitati sul nostro pianeta, in modo un po' particolare. E il paradiso lo troviamo invece nei cieli, praticamente. Beh, il paradiso è fatto di nove cieli, vedete, sempre tre per tre, più l'empireo, che è il cielo dove sta Dio. Quindi vedete sempre, ancora una volta, 9333 più uno, che è appunto il numero dieci. Quindi, per dire che tutti e tre questi mondi dell'aldilà, praticamente, sono organizzati secondo questa simbologia numerica che ha un senso, un senso profondamente poi religioso, cristiano. E questo invece ne avevamo parlato, proprio dal punto di vista anche della metrica, di come sono fatti i versi usati da Dante. Vi ricordate che anche lì c'è il numero tre, perché la strofa tipica della commedia è la terzina, cioè gruppetti di tre versi, secondo essi insieme per rime incatenate, e che però anche loro riproducono il concetto numerico della terza. Quindi, insomma, era un modo per darvi l'idea di come Dante utilizzava proprio a tappeto la simbologia dei numeri. Si parla di, addirittura c'è gente che si interessa di numerologia dantesca e che ha così ribadito che l'uso del numero come simbolo è un riflesso assolutamente medievale di quella cultura che Dante aveva ben appreso. Quindi questo era quello che volevo dirvi dal punto di vista sia del contrapasso che della numerologia dantesca. Adesso ci riposiamo un attimo e poi terminiamo con l'ultimo con l'ultimo argomento che è un po' uno sguardo un po' al volo perché non l'abbiamo ancora fatto per benino su come è fatto l'inferno e su chi ci troviamo dentro. E potete riposarvi un attimo e ci rivediamo tra un minuto o due minuti. Potete sgranchirvi. Io resto qui, eh. Eccoci qua. E però rivediamo un attimo ecco quello che ho piazzato qui. Vediamo se si può ingrandire un pochino. Ecco qua. Oh, anche questa anche questa questo paio di paginette qua sono tratte praticamente dal vostro libro. Quindi anche qui va studiato pagina 296 pagina 297 vedete? E qui poi casomai anche a parte la diciamo la lezione che sto registrando se volete anche questa questa slide che è opportunamente sottolineata per i passaggi che ci servono ve la ve la pubblico su Muto insomma diventa un materiale di studio pure questo. Se volete la pagina pulita volete sottolinearla voi invece andate a pagina 297 del vostro libro e la trovate. Allora qui c'è alcune cose le abbiamo già dette insomma quindi noi ci passeremo sopra un po' il volo però vedete in pratica il micro saggio che è questo sul fondo celestino chiaro ci parla della configurazione fisica però anche morale dell'ultridombo dantesco che vuol dire siamo all'inferno e ci vuole dire come è fatto l'inferno ci abbiamo girato intorno un po' di volte adesso andiamo proprio dentro però a che senso c'ha averlo pensato in questo modo quindi a livello morale a livello di insegnamento che è sempre l'obiettivo numero uno di Dante ci fa fare questo viaggio perché vuole dirci diverse cose come dobbiamo comportarci vuole dare dei modelli quindi ecco perché l'inferno è fatto cioè come è fatto l'inferno e perché si potrebbe dire traducendo questo titolo un po' complicato tutto quello che abbiamo ecco che io non ho sottolineato però ecco magari voi leggetevelo riguarda praticamente i primi passi abbiamo già fatti la selva oscura il coro illuminato dal sole la salvezza quindi che viene simboleggiata poi il fatto che Beatrice ha spinto Virgilio ad andare ad aiutare Dante bla 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 ok sulla scelta di Virgilio ecco qui l'abbiamo parlato diverse volte anche quando si è presentato sulla scena nel primo canto quando ha consolato Dante rispetto alla presenza della lupa che era stato l'animale che lo ha spaventato di più e poi gli dice guarda ti conviene che mi servi e facciamo un viaggio diverso per arrivare a riprendere la fede e Virgilio è stato scelto per diversi motivi attenzione che potrebbe esserci una domandina potrebbe potrebbe esserci una domandina tra qualche minuto a cui dovete rispondere quindi ecco qui c'è già la risposta praticamente Virgilio viene scelto come guida della parte del viaggio che ha a che fare con i mondi ospitati dal nostro pianeta quindi l'inferno e il purgatorio ricordiamocelo sempre stanno qui su questo pianeta l'inferno è nel sottosuolo diciamo così arriva al centro della terra e invece il purgatorio sta nell'emisfero australe dove praticamente non si poteva mettere piede perché secondo la concezione geografica del medioevo lì c'era sull'oceano più c'era in mezzo a quest'oceano quest'isoletta che ospitava il cono della montagna del purgatorio paradiso invece sta fuori del nostro pianeta però sì tornando a bomba sul perché Virgilio è stato scelto ci sono delle ragioni culturali che non appartengono effettivamente solo a Dante e invece motivi personali appartenenti a Dante insomma vediamo i primi il primo motivo nel medioevo Virgilio era considerato l'uomo più sapiente dell'antichità cioè il saggio numero uno di tutta l'antichità greco-romana come mai l'Eneide un poema molto ricco molto forte ma anche altre produzioni letterali di questo poeta le georgiche le bucoliche insomma un grande poeta che viene immediatamente preso come esempio come modello di cultura insomma di sapere di saggezza del mondo greco-romano lui rappresenta anche vi ricordate il massimo punto di arrivo della ragione umana senza però la rivelazione divina cioè lui non era un cristiano quindi ecco lui è arrivato fino ai massimi vertici però avrebbe potuto andare oltre se fosse vissuto in un'età cristiana non l'ha fatto non è successo secondo modello più o meno correttamente io direi più o meno che più Virgilio passava nel medioevo sempre quindi una ragione come dire generalmente culturale di quel periodo Virgilio passava anche come profeta della venuta di Cristo sulla terra come mai ho parlato di bucoliche nella quarta bucolica che è un poemetto diciamo così lui parla di uso il termine latino di un puer cioè di un bambino che riporterà fra gli uomini l'età del loro cioè l'età in cui non c'era nemmeno bisogno di lavorare c'era la concordia fra tutti ci volevamo tutti bene avevamo a disposizione tutti i frutti della terra per vivere in pace in tranquillità e in abbondanza ora ovviamente nel medioevo gli occhiali che portavano diciamo così fa identificare questo fanciullo di cui parla Virgilio a prima di Cristo chiaramente con Gesù in realtà adesso qui il vostro libro non lo dice però lui si riferiva a Augusto cioè l'Eneide viene scritta anche per fare un piacere all'imperatore Augusto che è un viettore appunto del regime principesco del regime imperiale a Roma l'Eneide nasce anche per questo cioè per come poema di propaganda su quello che ha combinato Augusto di buono quindi ecco nelle bucoliche si parla di questo bambino ma probabilmente cioè sicuramente con Gesù non c'entra un accidente ma si alludeva all'arrivo poi di Augusto che tra l'altro Virgilio aveva visto e vabbè quindi però questo è un altro motivo per cui Virgilio era molto importante insomma era stato rivalutato molto durante il Medioevo poi terza e ultima terza e ultima terzo e ultimo motivo culturale per cui Virgilio era considerato così importante in quell'epoca beh Virgilio aveva cantato nell'Eneide le gesta di Enea che praticamente da lui in una successione storica secondo il mito sarebbero nati poi Romolo e Remo quindi i fondatori di Roma e quindi Enea in fondo è il capostipite l'antico antenato dei fondatori di un impero che avrebbe governato sul mondo e quindi quell'impero che poi sarebbe diventato negli ultimi secoli l'impero cristiano la religione ufficiale poi dell'impero romano negli ultimi tre secoli fu appunto il cristianesimo il terzo motivo e poi ci sono cioè un motivo importantissimo per Dante proprio personale ce l'ha detto anche in diretta no? vi ricordate quando lo incontra e Dante dice tu sei il mio maestro il mio autore cioè per Dante Virgilio è l'esempio numero uno dello stile no? che lui utilizza quando scrive in latino sapete che la produzione di Dante il grosso è il latino poi c'è la commedia altre cosette più o meno minori che sono in i borgari italiani quindi ecco però per il latino appunto Virgilio è stato il suo modello il suo modello di riferimento quindi come vedete la scelta di Virgilio è dettata è dettata da una considerazione molto grossa che questo poeta dell'antichità romana aveva nel Medioevo più c'è anche quel motivo di particolare come dire attenzione che Dante ha riversato nelle opere e nello stile latino di quello che lui chiama il suo maestro anche se due ovviamente non si sono mai conosciuti questa è una conoscenza sui libri chiaramente bene chiarito questo perché è importante una volta per tutte diciamo così andiamo a vedere come è fatto l'inferno brevemente non voglio uccidervi come è fatto l'inferno e perché e secondo quale logica perché qui non si scappa non c'è niente di casuale ragazzi né nella cultura né medievale né soprattutto nella commedia che della cultura medievale poi se vogliamo una delle massime produzioni uno dei massimi risultati allora qui insomma se qualcuno non l'avesse ancora capito come è fatto l'inferno forma a imbuto e vedete un imbuto però solcato da quelli che vengono chiamati cerchi cioè sono delle cornici dei rilievi praticamente che via via che andiamo giù sono sempre più stretti che praticamente corrispondono appunto a delle divisioni di questo di questo imbuto non immaginate un imbuto dalle pareti lisce altrimenti tutti ve ne ci vedrebbero è un imbuto che man mano si stringe con dei cerchi concentrici sempre più stretti appunto e qui ovviamente insomma ci siamo arrivati pure da soli senza che il libro ce lo dicesse i dannati stanno dentro questi cerchi e sono distribuiti appunto a seconda dei peccati commessi quindi la logica è sempre alto contro basso cioè più si va giù all'inferno e più si entra in peccati insomma in cerchi che ospitano peccatori di peccati sempre più gravi chiaramente partiamo dall'alto ecco vedete qui più o meno corrisponde a questo livello qui appena superato l'agheronte non lo sappiamo noi come lo supera Dante l'agheronte perché lui sviene lo vedremo poi successivamente però entriamo nel primo cerchio che è chiamato anche limbo vedete eccolo qua il limbo è tra l'altro voglio subito eliminare la suspense il limbo è il posto dell'inferno dove sta di solito Virgilio poverino e lì abbiamo già commentato quando abbiamo parlato di Virgilio non eravamo molto d'accordo su questa scelta però tenete presente che lì sono destinati a stare per l'eternità lì uno i bambini che sono morti appena nati che non hanno potuto avere il battesimo quindi tutti i bambini neonati non battezzati due persone nate prima di Cristo però giuste cioè che si sono comportate bene solo che purtroppo non avendo avuto modo di incontrare la religione cristiana purtroppo non sono cristiani non sono stati battezzati anche loro e quindi sono destinati a non andare mai in paradiso e dove si trovano i più fichi tra virgolette cioè i grandi poeti per esempio i grandi filosofi del mondo classico del passato qui trovate Aristotele un sacco di gente insomma poi ne vedremo vedremo un breve elenco in una prossima puntata si trova in una specie di castello illuminato però di luce in una specie di sfera luminosa che li tiene alla luce dentro invece l'inferno che di solito invece l'abbiamo spesso accostato al buio all'uso scusi ma la spiegazione quando finisce e poi iniziano gli esercizi la spiegazione finisce per 10 minuti poi poi iniziano gli esercizi si si li vediamo un attimo li vediamo un attimo insieme e poi vi do il tema ok grazie prego figurati quindi nel limbo è ospitato anche perché corrisponde all'identikit che ho fatto quindi grandi poeti e grandi filosofi del mondo classico e Virgilio alla faccia se non era considerabile così che però stanno lì la pena lì praticamente poi lo vedremo meglio quando ne parleremo il volo qual è? è quella di desiderare il contatto con Dio ma di non trovarlo mai quindi ecco la pena non è fisica non è una sofferenza ovviamente materiale è una sofferenza tutta psicologica cioè loro vivono nell'eternità nella desiderio fortissimo di andare in paradiso ma non riuscire a andare mai a darci ma non sembra giusto però insomma questo faceva parte insomma dell'ideologia tipicamente medievale i peccatori veri e propri invece ecco dopo il primo cerchio si entra poi nell'inferno che ospita i peccatori veri perché dico così? beh abbiamo già visto nell'anti-inferno vi ricordate stavamo qui al di là della Geronte se guardiamo tutto da dentro l'inferno gli gnavi stavano nell'anti-inferno quindi non erano peccatori veri e propri anche se insomma la loro pena non è proprio gradevole nel Libro non c'è nessuna pena corporale diciamo così e ci sono i non-battezzati ecco dal secondo cerchio poi finalmente entriamo nell'ambito dell'inferno vero e proprio dove si dove sono stati condannati i peccatori veri insomma i peccatori che hanno commesso dei peccati reali e qui entriamo appunto in quello che abbiamo detto prima ci sono tre tipologie diciamo così di peccati la prima tipologia è l'incontinenza chi ci troviamo dentro? ecco guardate qui gli incontinenti ecco io ho messo ho sottolineato chi troveremmo no? e qua se volete dare intanto che io lo dico un'occhiadina qua sopra trovate appunto i posti i luoghi dell'inferno dove questi peccati sono puniti incontinenza ripeto l'ho detto prima significa il non aver saputo resistere a istinti a pulsioni peccaminosi vediamo i lussuriosi sono quelli appunto che hanno esagerato nel cercare l'appagamento sessuale oppure i golosi anche la gola sapete è uno dei peccati capitali per quanto riguarda così la sistemazione logica dei peccati in abito cristiano cioè hanno sacrificato la vita praticamente a cercare di godere dal punto di vista del cibo cioè il peccato di gola gli avari e i prodighi cioè in effetti sembrerebbe un controsenso chi è avaro si tiene per sé la roba i soldi i prodighi invece la disperdono la spendono senza logica ecco in entrambi i casi le due tipologie di peccatori non hanno resistito a questi impulsi che erano per loro irrefrenabili invece poi ci sono una volta che superiamo vedete qui c'è se guzzate lo sguardo sembrano delle mura no? sì in effetti sono delle mura delle mura intervallate da torri quella che poi marcando queste mura incontrieremo si chiama città di Dite Dite è un la solita il solito prestito che Dante effettua diciamo per quanto riguarda la mitologia classica Dite è il sinonimo di Plutone Ade cioè una divinità infernale della della vecchia mitologia greco romana e qui la città di Dite ci fa entrare poi più o meno nell'inferno poi più profondo e lì ti troviamo seconda tipologia di peccati i violenti ma i violenti insomma vedete come Dante poi entra nel merito beh si può essere violenti in tanti modi intanto guardate troviamo subito ecco qua vedete nel sesto cerchio gli eretici gli eretici sono quelli che non hanno creduto in Dio praticamente coloro che hanno rifiutato il contatto con la con la religione cristiana pur potendolo fare in questo caso e ne troveremo lì entreremo andremo a vedere insomma qualcuno soprattutto un personaggio importantissimo molto drammatico poi i violenti contro il prossimo è la classica violenza che tu eserciti contro qualcuno oppure i violenti contro se stessi i suicidi praticamente abbiamo esercitato in quel caso violenza contro il nostro corpo come vedremo e poi altri tipi di violenza i violenti contro Dio in che senso non perché avessero voluto fare del male fisicamente a Dio ma i bestemmiatori per esempio stanno lì ci si è rivolti con violenza contro il nostro creatore i violenti contro natura contro la natura io per esempio sono condannati pensate gli omosessuali tipicamente medievale questa cosa cioè la sessualità serve nel medioevo alla procreazione quindi è consentita solo a livello morale a un uomo e a una donna chi invece è omosessuale chiaramente trasgredisce questa cosa anzi fa della sessualità un vizio peccato oppure i violenti contro l'arte attenzione l'arte nel senso di lavoro produttivo cioè tutti quelli che praticamente per esempio gli usurai succhiano denaro a chi con violenza molto spesso a chi invece guadagna soldi con il sudore della fronte gli usurai sono violenti contro il lavoro vedete che strana cosa e una volta che poi seguendo il viaggio vigilendante ci caliamo in questa ripa scoscesa una specie di grosso gradino no? grosso gradino stiamo per entrare poi nell'inferno veramente profondo e questa parte qui vedete questa divisa in tanti tanti pezzettini sono le bolge dieci sempre tre più uno le bolge sono questi contenitori se vogliamo all'interno di questa ultima parte dell'imbuto dove sono contenuti i fraudolenti per tradurre coloro che hanno ingannato in qualche modo anche qui c'è una divisione notevole guardate cioè i fraudolenti sono divisi in due grossi gruppi coloro che hanno usato inganno verso chi non si fida appunto e faceva bene chi sono i ruffiani e i seduttori è quelli che insomma lo dice lo stesso termine lo usiamo anche noi spesso quelli che attraverso il loro fascino il loro sistema seduttivo hanno ingannato qualcuno oppure gli adulatori sempre per i loro fini parlano benissimo di qualcuno cercando di ingannarlo e di fargli prendere decisioni al loro vantaggio gli adulatori i papi simoniaci ecco qui troviamo anche dei papi simoniaci che vuol dire che approfittando del loro ruolo importante hanno guadagnato hanno fatto soldi attraverso la corruzione ahimè esistono pure quelli Dante è molto severo ovviamente oppure sempre nel campo dei fraudolenti verso chi non si fida gli indovini eh l'indovino era quello che fa fitta di sapere il futuro era condannato dalla religione cristiana ma quando mai sei uno che vuole ingannare la gente insomma e i barattieri chi sono? i corrotti oggi sarebbero i pubblici ufficiali corrotti cioè uomini politici eccetera che si sono fatti corrompere per agire in favore di qualcuno che li ha pagati barattieri gli ipocriti è un peccato anche l'ipocrisia i ladri anche quindi i ladri spesso utilizzano le loro arti diciamo così di inganno per ottenere poi quello che vogliono e oppure vedete i consiglieri di frode cioè che vuol dire quelli che hanno consigliato altri a ingannare altri quindi che hanno trasmesso questa loro così caratteristica ad altri quindi li hanno li hanno perduti anche loro ovviamente oppure i seminatori di scismi e discordie quelli che in ogni situazione trovano il modo di dividere la gente di fargli prendere posizioni opposte ecco lo scisma è tipicamente quello che succedeva nel medioevo quando nascevano delle eresie contro la chiesa di Roma per esempio ad esempio oppure i falsari questi sono i tipici fraudolenti quelli che falsificano praticamente denaro o un documento eccetera per ottenere un vantaggio poi ci sono come vedete i coloro che hanno ingannato chi si fida e questi sono i traditori quelli che purtroppo hanno tradito la fede la fiducia che qualcuno aveva in loro e li hanno ingannati chi ci troviamo dentro velocemente traditori dei parenti beh il parente si fida di te se tu lo tradisci sai con più peccato gravissimo stai parecchio giù nell'inguto i traditori della patria beh ovviamente c'è niente da commentare credo i traditori degli amici anche un amico a che fare con te si fida se no che amico sei e addirittura i traditori dei benefattori questi sono tra i peggiori nel senso che tu mi hai fatto del bene e io se posso ti frego ti tradisco quindi con l'inganno insomma faccio del male a chi invece mi ha fatto del bene e qui arriviamo all'ultimo all'ultimo all'ultima parte dell'inferno conosciamo Lucifero qui si intravede poi magari vi faccio vedere qualche altra immagine quando ci arriveremo Lucifero è il famoso angelo precipitato sulla terra dopo il suo tentativo di ribellione a Dio e che ha fatto spalancare la terra inorridita dalla sua bruttezza di effetti è diventato un mostro con tre visi pensate che roba sempre tre però come vedete in cui si è conficcato al centro della terra con le sue enormi ali ghiaccia praticamente tutto quello che viene chiamato coscito una valuta infernale però ghiacciata dove sono conficcati come vedete i traditori poi ci arriveremo e Lucifero compie per l'eternità una cosa orrenda cioè mastica dalle sue tre bocche i grandi traditori della storia cioè Bruto e Cassio che sono i leader della congiura che poi mise fine alla vita di Giulio Cesare e poi il traditore per eccellenza che è Giuda Giuda Iscariota quello che ha consegnato poi ai soldati romani tradendo Gesù così a meno come ci racconta il Vangelo ultimissime cose l'inferno è popolato di mostri e di diavoli i mostri sono soprattutto prima della città di Dite cioè praticamente fino a qui Darte incontra ci abbiamo già ragionato sopra delle figure che spesso sono tratte non solo dalla mitologia greco-romana ma proprio dalle Eneide cioè dei mostri che scusate Virgilio aveva utilizzato in mano a Darte diventano dei demoni anche loro quindi c'è Minosse che ancora non abbiamo visto ma avevamo visto Caronca per esempio Cerbero il cane a tre teste il Minotauro come sapete nella storia dell'antica civiltà cretese i Centauri corpo di cavallo e dalla cintola in su sono uomini le Arpie vedremo poi sono dei mostri femminili insomma diciamo così e poi Gerione che è un gigante come vedremo mostruoso e dopodiché però da quando entriamo qua dentro dopo la riba scoscesa troviamo i diavoli e i diavoli ragazzi sono molto simili anche Dante che era una persona corta che aveva studiato a quelli che vedemmo descritti vi ricordate in quella specie di inferno dove si cucinavano Giacomino da Verona che ci raccontava come hanno fatti i diavoli sono corpo peloso ali di pipistrello corna zanne e spesso fanno anche gli spiritosi come vedremo c'è un pezzo che poi leggeremo dove sono quasi in possesso di una specie di comicità tra virgolette molto volgare nei confronti di Dante quindi questo è un po' mi rendo conto dove c'è una parecchia robetta da digerire quindi le domande oggi non riguarderanno questa parte della lezione e questa era però ecco come è fatto l'inferno e secondo quale logiche e qui la lezione sarebbe finita ora blocco la registrazione e vi faccio vedere